Grab the microphone and let your words ring. Now here's a funky introduction, now how nice I am. Tell your mother, tell your father, send a telegram. I'm like an energizer. Stai bene? Sto bene. Che cavolo era? Non lo so. Era la stessa cosa che è successa col microonde. Puoi dirmelo? No, Dio. Forse la tua radio è soltanto vecchia come la tua stupida musica. Oggi abbiamo una storia che cambierà il mondo. È un video in Nigeria. Elettricità che esce dalle loro mani. Solo adolescenti femmine. So che alcune ragazze riescono a gestirlo. Come funziona il tuo? Se fosse una sola ragazza penserei a una mutazione. Ma sono centinaia di migliaia. Sono un giornalista. Sono qui per raccontare la tua storia. Vedrai che cambierà le cose. Che diavolo combini? Il mondo che conoscevamo. Potrebbe essere cambiato. Deve essere stato spaventoso. La tua elettricità non mi spaventa, Josh. Tu ce l'hai questa cosa. Ce l'abbiamo tutte. Ce l'abbiamo perché ci serviva. Aspetta, aspetta. Hai un documento? Non voglio problemi. Un bel sorriso per me. Quando sorridi sei più carino. Faranno il test a tutte. Devo tenere le persone al sicuro. È una cosa invasiva. È immorale. Ti sto solo chiedendo una lista. Tratti le nostre figlie come criminale. C'è qualcosa di diverso in lei. Ha compiuto dei gesti straordinari. Papà, mi piacerebbe lavorare per te. Posso dare una mano? Che cosa vuoi? I soldi di mio padre? No. Non tirare la corda. Altrimenti. Non tirare la corda! Altrimenti! Neanche mi rendevo conto di vivere sempre nella paura. Voglio vedere il mondo come lo vedi tu. Questo potere mi ha mostrato un mondo migliore per tutti. Mi sento cento chili più leggera. Cento volte più forte. Ti immagini crescere con quel tipo di libertà? Ti immagini crescere con quel tipo di libertà?